Sì, oggi ragazzi siamo in un nuovo video Oggi ragazzi giocheremo a FIFA Con un mio amico Saluta, fai un bell'orgasmo Ciao Ho fatto un bell'orgasmo E ragazzi Oggi io Juve, lui Paris e San Germain Allora, tac Ci auguriamo, auguriamo Ho preso Ok, ok, Morata Morata, ma morca pitana Ma io avevo fatto un passaggio Occhio al corner Occhio al corner Occhio al corner Occhio al corner Ma devi ripartire, stai io in giustazione No Occhio al corner Ecco, a compresa di sconnetta Occhio al corner Occhio al corner Spesso si è tolto il cavo Ma per i gatti, qua deve stare attaccato al cavo Eh sì, per un secondo Ok ragazzi sono tornato, facciamo Riccato il gol, cioè Eh ma perché, allora Fai indietro Vieno di stato perché avevo segnito tua madre La ricerca ci ripropone l'azione del gol No non è distratto, con scusa No ti giuro Ho detto Ale che giusto Ma l'incontro l'altra una Ma vedi, qui a parte sta cosa Ok tac Il controller che fa passaggio Ah forse di passarla con la pianta la passa a con la pianta Ma vaffa Ma vaffa C'è che c'è che c'è che c'è che c'è Vareva essere pericoloso Oh presa 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 Oh Rigore per la Juve Siamo ancora in pazienza Arrivato il primo giro Penso che la regola Chiellini Chiaro che faccio un gol con Chiellini Sono il re di FIFA Oh Rigore per Chiellini Vabbò cagare Rigore per Chiellini Zaccaria 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 Dibabiba Dibala Dibala Bene che fa bene che fa Bene che fa Di bolo Paolo Di bolo Paolo No No ma sta facendo un orgasmo incredibile o frappelle un ortale no 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 non puoi fare gol mi puoi no 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 guarda me si mi ha garrappato incazzato oh grazie no oh non me lo puoi fottere no oh che pare questo locatelli 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 guarda ti dribblo con locatelli che non c no oh guarda e ti dribblo locatelli prima stiamo all'ombra poi stiamo al son oh guarda e ti dribblo con locatelli non è deciso ho notato con chiamine 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 c'è stato c'è stato no però c'è calcio d'angolo appunto ma pigli tu visto c'è stato il nuovo 3 4 no no oh no no ma ma però no no mi mi per me per me si libera qui non so cosa paga ancora ora gioco più in serio ho preso di bala di bala no come guarda con giocattato ok la mette in mezzo di bala troppo sul portiere buono l'intervento no 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 io che camper qualche drift oh oh no 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 e quindi qua è meglio di corso oh cazzo che lui no locatelli 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 di bala no morata ci mette il corpo spinge anche questa no un po' fallo no no ma come fai questo di stupido ecco devi prendere devi prendere premere quadrate messi cazzo 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 no 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 ma no ah 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 oh ah oh guarda quanto era reti incazzato ma se ma questo era davvero che aveva detto sta partita eserci vieni 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 ferma non controlla c'è questi passaggi alti io non li ho mai visti premi quadrato devi tenere premuto quadrato devi tenere premuto quadrato poi cerchio cerchio ma vorrei no sbaglia qui va bene è in buona posizione per un attimo si è affermato oh vabbè no ballone spazzato via fatto bene però per incazzarsi prima che di bala morata 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 di okano ho sbagliato eh no ma tanto ci conosce nessuno ora io recupero subito recupero subito sembra nemmeno una conclusione irresistibile via la palla a voi rimane lì lui apprendita è ancora nella palla due a due bella partita ah cazzo oh vigore per l'aiuto è in valutarità via è finita il primo tempo so che fosse un po' fallo un po' fallo vai ok allora secondo tempo è cominciato il risultato di balità con cui si sono schiusi per il quale oh di bala non percare che mi scorre porca putana oh oh dai ti dribblo ah cazzo è vero tra me porto da schermo ma l'hai sicuramente scordato no cazzo ti cazzo sul pallone cazzo è passare in vantaggio ma che c'era l'autogolle però eh 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 ma che c'era l'autogolle ha fatto l'autogolle iq iq donnarumma vedete la reazione se sarà l'autogolle oh oh no portata no 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 che scuolo porto dio oh oh prima la mia 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 ma questo è il luogo perché pregni a cazzo il palo paese pregni a cazzo lanciano as ma no mi sto per 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 l'attacco ma non è mai fuorigioco per te non è vero no 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 rigore per l'inter la toro la toro calcio di ricordo per l'inter oh la parata di Chiellini Vibala 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 oh Chiellini la parata della regione intercettavano dei passaggi tu adesso mi riscarcati oh è Messi però che calcio fai no era Messi era Messi oh god x no oh grazie c'è la pressione su voi non ci stiamo No, cosa fuori gioco? Cosa? Trasto deciso Valdovic Valdovic No Svegli fuori con questo Svegli fuori con questo La reazione è di fondo Il portiere si è scattava via dal campo e si è scattava via dal campo e si è passi con i 10 minuti La netta in mezzo è Di Bala Rive un po' pigro questo È una gallina È una gallina E si è scattava via Locatelli Di Bala Può essere il passaggio è stato fatto questo Nooo ma che cazzo è Donnarumma, porca puttana guarda lì ah ma 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 non è un portiere di Gagliari no raga no raga ma poi noi giochiamo poi noi giochiamo col pallone quello quello tango la riga tango il tango tangoso il tango dove marlona c'è giocato con il papà napoli ma l'ordineo 1 fatica la roma ma non è un po' la pittà la pittura valdo o valdo vittorio ma gli dici, sbaglia, sbaglia, sbaglia! Sì, no, ma... di palo! di palo! di palo... oh, no, 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 lo stanno stupendo oh dei baffi? oh che palle sto controller vai, andiamo avanti, vai oh, no, lo stanno inculando, no, lo stanno stupendo grande oh, oh oh, uno stupro gay, come cazzo usate? no, 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 che è lei, basta con sto replay! è tutto sto replay e basta però, ho capito che hai detto, madonna il resto vedremo la reazione, se ci sarà del palo di palo paolo mi mulo le palle a messi una alta è parla però c'è io facemla la palla perché te l'avevo passata? con un accordo ok ormai soluzione se il secolo per lui al secondo il secondo un negrone il quattro tecnico ormai scopo non ho portato le caratteristiche l'amore dell'attore che non si può rompere i miei che lini quadrato quadrato quando dopo la sbaglia porta tutt'anno messi mi ha fatto inizialità cosa cacchi diritti no rigore per l'intero ok 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 ma che c***o no ora la sbaglio sii sii ho ucciso un tifoso mi ha avuto un'idea di costruzione in maniera ok se pensare 10 minuti ma barco o di pala di pala che perde la palla di pala per l'anno l'ultimo goggio di pala di pala di pala attenzione se il pala è giusto perchè ora è una parata che fare come un bel pala questa sono già sotto di uno pensa prenderlo no aspetta dovrei vedere sicuramente le elezioni di monta presa a palo così come sta deve smerdare la piazza no 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 mamma capocciana ti vuoi andare resta la testata di zidane materatti è caduto gli andati la testata è la data vizzi 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 i ritorno vizzi vizzi sart vizzi non vizzi non è l'assassimo della cosca prendiamo all'ombra oh bravo c'è spazio per i gioventini no porca puttana c'è un problema ma che cazzo è donnarumma porco non sono provato c'era già accorne ok dai che ce lo posso fare oh chelini chelini ooo un po' fallo un po' fallo contrasto pulito ha detto ah ma che marchignos marchignos tocco per Messi paris a Germain recuperare il pesce efficace la copertura della difesa che si salva occhio più alla ripartenza ok basta è vinto dai vinto basta basta oh bravoi la raccoglie la raccoglie il portiere senza problema ma basta è finita la partita si ha vinto ho vinto poi raga abbiamo finito iscrivetevi lasciate un like se volete iscrivetevi raga lasciate un like attivate la campanellina per non perdere il video di Kipar 360 e noi vi salutiamo